Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video e oggi, come vedete, siamo qua con la Designer Collection Limited Edition di Jasmine. Oggi, oltre ad avere una bambola super speciale, perché ovviamente essendo una Limited Edition è molto speciale, come vedete abbiamo anche il nuovo sfondo. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma intanto iniziamo a guardare la sua scatola. Come vediamo la scatola di questa Designer, e spero che sarà così per tutte le Designer che dovranno uscire, perché sono ben 12 in Europa e 15 in America, la scatola è veramente molto molto bella. Per prima cosa notiamo che la bambola all'interno non si vede. La scatola è tutta completamente chiusa, con un sacco di dettagli. Abbiamo questa specie di marrone scuro che sfuma al centro in un marrone aranciato più chiaro, come se ci fosse uno spot di luce ad illuminare proprio la scritta Disney Designer Collection, che è scritta proprio qui al centro con questo font completamente dorato. Nell'angolo superiore possiamo vedere questi decori a forma di rombo con all'interno dei fiori, che a me ricordano un sacco dei fiori di loto. Lo stesso dettaglio lo troviamo anche qui sull'angolo in basso a sinistra della scatola, e sono tutti e due completamente dorati. Non sono dorati effetto specchio, ma devo dire che comunque fanno un bel effetto. Sparsi lungo la scatola troviamo invece questi fiori molto delicati, stampati con una stampa leggermente più scura del colore sottostante. Infatti qui riusciamo a vederlo abbastanza bene perché è sopra l'arancione, ma invece in questo punto, come vedete, si perde perché è molto scuro. E ne troviamo un altro anche qui. Qui in basso invece troviamo la scritta Jasmine e c'è anche scritto Limited Edition 1 di 9800. Devo ammettere che di queste Jasmine ne hanno fatte veramente tantissime e infatti ragazzi purtroppo si trova ancora sul sito. Purtroppo o per fortuna, dipende dai casi. Entrambi i lati della scatola, come vedete, sono molto particolari perché non sono semplicemente lisci. Praticamente hanno creato un angolo in più, ma poi da sopra si capirà meglio la forma, dove hanno anche inserito un sacco di dettagli e un sacco di decori. Lungo tutta la scatola troviamo il nome della principessa che abbiamo scelto, che ovviamente in questo caso abbiamo già capito tutti, che è Jasmine. Una cosa carina è che come vedete, oltre ai fiori e questi dettagli, sui lati della scatola hanno riproposto nuovamente il colore che c'era anche davanti, questa sfumatura colorata dal marrone scuro all'arancio. L'altro lato della scatola è praticamente uguale, con la semplice differenza che la scritta Jasmine è scritta su quella parte, diciamo, tagliata via della scatola. Anche il retro ripresenta gli stessi colori con la stessa sfumatura, ma con un sacco di cose scritte. Per prima cosa, qui in alto vediamo in mezzo a tutti i decori a rombo questa foto, la foto di Mark Monterroso, credo si dica così il suo nome, che è il designer di questa bambola, lo stilista più che designer di questa bambola. Infatti il bozzetto iniziale del vestito, degli accessori, di tutto quello che poi troveremo addosso lei, è una sua creazione. Infatti scendendo leggermente vediamo subito che sotto al logo Disney Ultimate Princess Celebration c'è proprio il suo nome. Lungo tutto il retro della scatola invece troviamo un sacco di cose scritte, ma veramente un sacco, che ci raccontano qualcosa di lui, qualcosa di questo designer, e poi ovviamente parlano anche di questa bambola limited edition di Jasmine. Dalla parte superiore della scatola riusciamo a capire molto meglio la forma che gli hanno dato, ed è semplicemente la stessa forma delle vecchie designer, delle masquerade, di cui vi ho già recensito Esmeralda che vi lascio qui sopra, ma fatta al contrario, praticamente la parte diciamo sporgente invece che essere davanti è sullo retro. E possiamo vedere che qui nella parte superiore c'è questa plastica trasparente, con la scritta in oro Disney Designer Collection. Questa scatola come vi dicevo è molto particolare, infatti per aprirla dobbiamo andare a prendere questa punta, che è attaccata con delle calamite, e come vedete ci svelerà una parte della bambola. Invece andando ad aprire l'altra parte, apriremo del tutto la nostra Jasmine. Questo è come si presenta la scatola una volta aperta. Come vedete all'interno ci sono un sacco di decori, è tutta completamente decorata, ma soprattutto ci sono queste due taschine, con all'interno due cartoncini. Infatti oltre a questi decori, tutti a forma di rombo, che troviamo su tutta la parte nera della scatola, qui troviamo sulla plastica, che non è rimovibile separatamente, ma è attaccata proprio alla parte di cartone, questa specie di lampadario dorato. E qui in queste tasche possiamo vedere che hanno inserito e appiccicato alla scatola, in una, questo cartoncino qui, con la scritta Disney Ultimate Princess Celebration, con qui sotto un'immagine bellissima del castello di Jasmine, e qui di nuovo la foto di Mark. Sul retro invece, che però non sto qui ad aprirvi, ma vi lascerò un'immagine dove si capisce meglio, troviamo di nuovo la faccia di Mark, il logo della Ultimate Princess Celebration, e qui sotto, ma adesso ve lo lascio sicuramente come immagine, c'è il bozzetto che ha disegnato proprio lui. Da quest'altra parte, invece, sempre in una tasca con tutti questi decori bellissimi, e sempre ovviamente appiccicato con questo biadesivo, troviamo il certificato di autenticità, che in questo caso è molto più piccolo confronto ai soliti certificati delle limited edition del Disney Store. Ovviamente richiama sempre tutti i dettagli che abbiamo visto già nella scatola, e c'è scritto appunto Designer Collection Jasmine Collector Doll, ci dicono che è stata rilasciata nel 2021 con dettagli e bla bla bla, e poi qui in oro c'è stampato il numero della nostra bambola. La mia è la 5069 di 9800. Sul retro troviamo la stessa identica cosa, ma scritta in francese. Invece il resto della scatola qui davanti, come vedete, è molto semplice, ci lascia vedere all'interno la bambola, e qui sotto ritroviamo la scritta Disney Designer Collection. Ovviamente anche questa Jasmine, come tutte le limited edition, può essere lasciata in scatola, ma la scatola può essere aperta proprio per lasciarcela vedere completamente senza plastica, e può anche essere rimossa dallo sfondo, in modo da poter lasciare la nostra bambola all'interno della scatola, quindi senza deboxarla, ma potendola toccare e guardare da vicino. Dello sfondo ve ne parlerò tra poco, ma ci tengo a farvi notare che questa volta il Disney Store ha pensato di decorare anche l'interno della scatola, la parte diciamo sul retro dove è attaccata la bambola, che solitamente non si vede, perché ovviamente rimanendo appunto nella scatola non si vedrebbe, ma questa volta il Disney Store per fortuna l'ha decorata. Ha avuto questa idea che apprezzo tantissimo. Ma dopo aver parlato così tanto della scatola, so che non vedete l'ora di vedere la bambola, e quindi vado subito a deboxarla. Una volta rimossa dalla scatola ci tenevo a mostrarvi che l'interno del box presenta qui sotto questi due scalini, questa specie di palchetto, su cui era appoggiata Jasmine, e che potremmo ovviamente utilizzare per rimetterla in scatola ed esporla nella posa che vorremmo noi. Infatti è quello che sicuramente farò io. Invece sul resto dello sfondo troviamo sempre un paesaggio di Agrabah, con come vedete qui sotto il castello di Jasmine. Molto 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 bello. Ma iniziando finalmente a guardare la bambola da vicino, iniziamo come sempre dal suo viso. E vediamo che finalmente il Disney Store è riuscito a cambiarle il colore di pelle e a darle un colore di pelle più scuro con fronte al solito, e decisamente più azzeccato secondo me per il suo personaggio. I suoi occhi sono ovviamente castani, molto allungati con un trucco bellissimo, un trucco composto da un ombretto oro, un eyeliner veramente molto grosso e spesso nero, e una sfumatura rossa. Le sue ciglia sono rutate e ci sono delle ciglia più corte e delle ciglia più lunghe. Le sue sopracciglia sono super definite, molto grosse, molto folte e completamente nere. Mi piacciono un sacco. Le sue labbra sono forse la cosa che mi piace di più in assoluto, perché sono state stampate veramente benissimo. Sono di due colori diversi per dare un'idea di tridimensionalità maggiore. Infatti il labbro superiore è un pochino più scuro con fronte al labbro inferiore, dove vediamo che è stato anche disegnato il contorno labbra. Oltre a tutto questo troviamo anche del blush sulle guance e ragazzi, wow, 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 questo viso io trovo che sia stupendo. Passando subito a vedere i suoi orecchini, vediamo che sono completamente dorati. Sono di plastica, non sono di metallo, ma con questo finish dorato e con anche incastonato o in questo caso ovviamente incollato un finto brillante rosso. Devo dire che mi piace un sacco. L'unica cosa che trovo un po' un difetto è come vedete gli orecchini stanno completamente appiccicati al suo viso e non scendono come se cadessero per forza di gravità. Rimangono molto appiccicati e questo è un peccato. Basterebbe che Disney Store li avesse fatti un pochino più così e sarebbero stati praticamente perfetti. I suoi capelli sono lunghissimi, ma lo vedremo dopo dal retro. Intanto vi faccio vedere che sono ovviamente completamente neri, raccolti in questa acconciatura qui in alto. È fatta veramente molto molto bene, non posso dire niente. Perché solitamente quando fanno queste acconciature, che sono praticamente composte da delle trecce arrotolate tra di loro, sul retro si vede l'elastico e la ciocca che fuoriesce. In questo caso invece ragazzi come vedete sono praticamente perfetti. La treccia si infila qui all'interno, si intravede leggerissimamente l'elastico, ma sono fatti in un modo impeccabile. Nella parte davanti, sempre su questa parte di acconciatura, vediamo che le hanno anche messo questi tre gioielli, due dorati con i rubini rossi, ovviamente finti, ma in questo caso mi sembrano di metallo e non di plastica. E uno invece con una perla iridescente, su una base di metallo colorata, sempre un po' olografica. Questa gemma qui al centro, secondo me, non c'entra assolutamente niente con il suo vestito. Probabilmente c'entra qualcosa con il film, non lo so, ma in questo caso penso che veramente non c'entri niente con tutto il resto dell'outfit della bambola. Però ragazzi, sono sempre dettagli in aggiunta, soprattutto in metallo, che finalmente mi fanno vedere che questa bambola è una limited edition. Come vi dicevo, i capelli sono veramente molto belli e lunghissimi, infatti li arrivano oltre le ginocchia, sono veramente un sacco lunghi. L'unico, diciamo, difetto è che qui in fondo, come sempre, sono riempiti di gel e sembrano dei serpenti, più che dei capelli mossi o boccolosi. Andrò sicuramente a sistemarglieli, perché anche se andiamo ad aprirli, guardate che roba, sembrano veramente, boh, non lo so, sembrano dei pezzi di plastica, non riesco a capire il senso di questa cosa, di metterglieli così. Però di base sono comunque molto belli, anche se purtroppo la fibra non è tra le migliori che ha mai usato il Disney Store. Scendendo un pochino e iniziando a guardare il suo outfit, la prima cosa che ovviamente salta all'occhio è questa enorme piuma dorata di metallo, completamente fatta di metallo, che le gira tutto intorno alla schiena e si blocca qui davanti sopra alla gonna, sopra all'inizio della gonna. È bellissima, è stampata benissimo, è completamente dorata, e in più ci sono qui applicati questi brillanti gialli, che non sono realmente dorati, ma sono proprio giallognoli, infatti non mi piacciono tantissimo, ma questa piuma è stupenda. È removibile, perché ovviamente anche tutto il suo outfit è removibile, ma bisogna stare un pochino attenti, perché per rimuoverlo bisogna aprire un pochino, allargare un pochino il metallo e riuscire a sfilarlo. Io ho già provato a farlo, e sicuramente ragazzi non lo rifarò, perché ho il terrore di romperla. Un dettaglio però molto bello è che qui sotto hanno pensato di mettere questo pezzettino in più che si infila proprio nella gonna e sparisce per tenere questa piuma in posa. Appena sotto la piuma però vediamo l'inizio del suo vestito, che è un pezzo unico a parte le maniche, ed è fatto di questa stoffa di raso intrecciata sul seno. Non è realmente intrecciata, sono delle cuciture, ma sono fatte veramente molto bene. Mi dispiace non riuscire a farvele vedere meglio. E in più questa stoffa è sfumata, perché parte rossa qui in vita, per poi sfumare fino sopra il seno in arancione. Stessa cosa che poi vedremo tra poco sulla gonna. Le maniche invece sono completamente identiche su entrambe le braccia, ma sono come vedete staccate dal vestito, e sono fatte veramente molto bene anche queste, perché hanno all'interno una stoffa mi pare di raso un pochino più rigida, per tenere questa forma a palloncino più voluminosa, e poi sono ricoperte invece da questa stoffa di organza. Sempre ovviamente tutto rosso, ma è un rosso leggermente quasi fucsia, sembra quasi per una punta di rosa. Come vedete sono due i palloncini che sono attaccati insieme, chiamiamoli palloncini, cuciti molto bene. Sul primo non è stato aggiunto nessun dettaglio, invece sul secondo ci sono stampati tutti questi decori dorati, con all'interno di ogni decoro anche applicato un brillantino giallo, un brillantino giallo dorato. Ovviamente anche questo è removibile, infatti sono chiusi qui con degli elastici. Sempre ovviamente su entrambe le braccia, troviamo questo braccialetto, completamente dorato, anche questo è anche questo di metallo, e questo bracciale qui appena sotto alla spalla, sempre di metallo e sempre dorato, con dei dettagli veramente molto belli, e ragazzi sto quasi pensando che il Disney Store sia tornato sulla strada giusta per fare queste Limited, perché non vedevo dettagli così veramente da un sacco di tempo. Un'altra cosa bellissima di questa bambola è che finalmente il Disney Store ha cambiato le mani anche di queste bambole Limited Edition con il corpo Classic. Infatti come vedete questa è la sua mano sinistra, che è decisamente molto più bella di quelle che utilizzavano prima, anche sotto è molto più naturale, trovo che siano veramente molto molto più belle, e invece questa qui è la destra, che è leggermente diversa, un pochino più chiusa, ma anche questa qui, ragazzi, guardate, fatta veramente bene, stampata veramente bene. Ma proseguendo a guardare il suo outfit, vediamo che anche la prima parte della sua gonna, la parte diciamo in vita, è fatta tutta a palloncino, proprio come le maniche. Infatti ritroviamo, come spero si riesca a vedere all'interno, una stoffa un pochino più rigida per mantenere questa voluminosità, e invece fuori tutta questa stoffa di organza, con tutti questi dettagli stampati, che per ora sono solamente stampati, con all'interno anche il brillantino dorato. Se andiamo a guardarla sotto, vediamo che questa parte è stata veramente cucita benissimo, e per una volta non posso dire altro che wow, almeno per ora. Ma la sua gonna ovviamente prosegue fino a terra, con questa forma quasi a sirene, infatti se vedete è molto aderente lungo le cosce, per poi allargarsi tantissimo quando arriva a terra, e anche in questo caso è di due colori, infatti nella parte superiore è rossa, e poi sfuma pian pianino in arancione, proprio come il top che abbiamo visto prima. E anche questa è fatta benissimo, perché se andiamo a vederla all'interno, vediamo che è stata tutta foderata di questo tessuto, di questo raso molto molto morbido, penso si riesca proprio a vedere che è morbidissimo, ed è dello stesso identico colore, delle maniche e dell'inizio della gonna, diciamo dei palloncini, veramente wow, non so cos'altro dire. Guardandola dal retro sicuramente si riesce a capire meglio la struttura, la forma di questa gonna, che come vedete diventa veramente larghissima, con uno strascico molto molto bello. Ma in più in questa gonna ci sono attaccati questi due strascichi, che sono attaccati sul retro, anche se in scatola li vedevamo sul davanti, perché erano stati inscatolati in modo da essere ben visibili, ma nel suo vestito dovrebbero essere appunto sul retro, e sono fatti ragazzi in un modo fantastico. Infatti vediamo che sono lunghi, molto più lunghi della gonna, ma soprattutto tutti i decori che troviamo su questa parte di vestito sono stati ricamati. Sono tutti completamente ricamati, non sono stampati, la stoffa è morbidissima e il disegno che troviamo in fondo è a dir poco stupendo. Tutto ricamato, con tutti questi brillantini applicati e anche queste due gemme un pochino più grosse, tutte gialle dorate, veramente bellissimo, ricamati ovviamente con questo filo d'oro. Anche nella parte finale troviamo di nuovo dei decori ricamati, dorati, con anche dei brillantini applicati, e in più ci sono anche queste tre piccole nappette attaccate proprio lungo il bordo. L'unica cosa, l'unico difetto che potrei trovare in questo caso, se proprio dovremmo essere precisi, mi sarebbe piaciuto che ci fosse un anellino a tenere le nappe, in modo da farle diciamo dondolare un pochino di più, invece che cucirle come è stato fatto in questo caso, che come vedete risultano molto molto più rigide. Però ragazzi questa parte è fatta veramente da Dio. In più se andiamo a vederla sotto all'interno, hanno applicato un altro tipo diverso ancora di stoffa, che come vedete è super riflettente, con tutti questi riflessi aranciati, morbidissimo, guardate così che roba, guardate che riflessi, è veramente stupenda anche questa parte di vestito. Finora devo dire che non ci sono assolutamente cose da dire, se non appunto se proprio devo fare il pignolo qui, che ci sarebbe stato bene un anellino. Per il resto questi due strasci, chi non so come chiamarli, sono veramente fantastici. Ovviamente sono come vedete entrambi completamente identici, ma entrambi completamente stupendi. Ma arriviamo a guardare le scarpe, che sono secondo me l'unico vero tasto dolente di questa bambola, perché sono completamente dorate. Sono delle scarpe fortunatamente con il tacco, ma come vedete sono abbastanza semplici. Per una bambola con la gonna aperta, come questa Jasmine, avrei forse aggiunto un piccolo dettaglio nelle scarpe. Il tacco comunque è bello, qui davanti è bello il fatto che abbiano messo questa specie di finto tessuto, ovviamente stampato di plastica, come se si chiudessero appunto con un nodo, ma le avrei preferite sicuramente con un dettaglio in più. Ma oltre a tutto quello che abbiamo già visto, con queste Limited, c'è anche un'altra novità, che è questo stand, che come vedete è fatto diversamente. Non è il solito stand piatto, ma è fatto come se fossero dei gradini, un piccolo palco sopra i gradini, con addirittura i lati neri e la parte centrale dorata. Lo stand è, come vedete, asseduta, quindi si nasconde completamente all'interno della sua gonna, e in più sono tutti, guardate, firmati dal designer che ha disegnato la bambola. Ovviamente oltre alla firma, troviamo anche il logo The Ultimate Princess Celebration e Disney Designer Collection. Bellissimo anche lo stand. L'ultima cosa che arriva con lei e che è decisamente degna di nota, è questa specie di borsetta, che richiama un po' il rubino che troviamo nel film. È fatta benissimo. Qui sopra c'è questa parte di plastica che sembra un po' un uovo di plastica. Tutto rosso, ma con tutti i dettagli fatti a forma di piume, almeno a me sembrano delle piume dorati. Da una parte c'è anche stampata la chiusura, come se si potesse aprire e chiudere, ma non si può aprire e chiudere, è solamente stampata. Si può far tenere in mano a lei tramite un nastrino rosso, ma la parte più bella è sicuramente la parte sotto, dove hanno applicato questa specie di nappa completamente fatta di catenine dorate di metallo e poi ai lati c'è attaccata questa catenina tutta dorata e piena di cristallini gialli. Avrei preferito dei cristalli dorati e non dei cristalli gialli, ma ripeto ragazzi, sono sempre cose che vedo io, che noto io, perché sono ultra pignolo, ma questa borsa è davvero bellissima e le dà quel tocco in più che veramente la fa risultare praticamente perfetta. Quindi ragazzi, questa era Jasmine in edizione limitata per questa Ultimate Princess Celebration della Designer Collection della Disney. Wow, wow, wow. Triplo wow anche oggi. Non posso dire altro. È veramente bellissima. È fatta benissimo. Non vale i soldi che costa, su questo siamo d'accordo tutti, perché costa la bellezza di 130 euro e lo sapete, e probabilmente questo rincaro di 10 euro confronto alle vecchie limited edition della Disney, uno dei motivi per cui è ancora disponibile sul sito. Ma per una volta mi sento veramente di consigliarvela. Tantissimo. È vero, le scarpe non sono il massimo. Il corpo è il classico corpo di una bambola classic della Disney, quindi il corpo non è niente di speciale, hanno solamente aggiunto un'articolazione al busto. Infatti è proprio per questo che sono riuscito a metterla in questa posizione, un po' come se stesse salendo le scale di un red carpet. Ma ragazzi, ha dei dettagli stupendi. Non mi piace tantissimo neanche il cosino blu che è in testa, perché secondo me con il suo outfit non c'entra niente. Non sono d'accordo con tutti quelli che hanno detto che sembra Mulan, perché a me sinceramente questo outfit non ricorda Mulan, vi dico la verità. Non me l'ha mai ricordata e non so perché ha tanti ricordi Mulan, forse per gli strascichi non lo so. Io trovo invece che sia super ispirata alla Jasmine del film quando ha il vestito rosso, quindi mi piace veramente da morire. Trovo che sia la Jasmine più bella che abbiano mai realizzato. Il viso è stupendo, gli accessori sono stupendi, i ricami sono meravigliosi, il prezzo è troppo elevato, siamo d'accordo, ma se ve lo potete permettere io ragazzi non posso fare altro che consigliarvela, soprattutto visto che è ancora disponibile sul sito senza doverla pagare in più su eBay o su altri siti che la rivenderanno dopo ad un prezzo maggiorato. Sicuramente dovrò andare a stirare la gonna, perché come avete sicuramente notato la gonna è completamente stropicciata. Io la rimetterò in scatola, ma la rimetterò in scatola in una posa così come la vedete adesso, quindi molto più dinamica di quella che hanno messo loro, come se appunto stesse salendo queste benedette scale, e di conseguenza si vedrebbe tutta la stropicciatura della gonna, quindi andrò sicuramente a stirarla, ma per il resto trovo che sia perfetta. Le laverò anche i capelli, ovviamente, ma cercherò di tenerli comunque molto composti come li hanno messi loro, perché ho visto alcuni che li hanno aperti dandogli molto più volume e secondo me dando molto più volume con i capelli perde tutta questa figura molto sinuosa che invece il designer ha voluto darle. Quindi ragazzi, assolutamente super consigliata. Spero che la prossima che sarà Pocahontas sia alla sua altezza, perché sapete che è la mia principessa preferita e con questa bambola mi sto illudendo che il Disney Store abbia capito che deve un attimino tornare su dei dettagli veramente belli per queste limited edition, quindi aspettiamo di vedere come sarà Pocahontas che sicuramente acquisterò per un discorso di collezionismo, ma che spero sia anche lei un triple wow. Intanto ragazzi, come sempre, fatemi sapere qui sotto se il video vi è tornato utile, se vi è piaciuto, soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di lei. Io come sempre aspetto qui sotto i vostri like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi anche su Instagram. Intanto ragazzi, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.